L'assessore regionale alle politiche agricole Donato Pentasuglia afferma che il piano regionale di monitoraggio funziona e annuncia l'abbattimento di oltre mille piante infette nel Brindisino. Il servizio. L'azione di controllo e contenimento della xylella fastidiosa in Puglia è costante e capillare. In particolare, nella Piana degli Olivi Secolari, la strategia regionale prevede un'ulteriore azione di sorveglianza nell'area infetta, che consente di rafforzare le attività di tutela e salvaguardia di un patrimonio dal valore storico e paesaggistico inestimabile. Lo dichiara l'assessore all'agricoltura della regione Puglia Donato Pentasuglia commentando i dati relativi alla diffusione di xylella ed evidenziando che la mappa del territorio della zona infetta di Ustuni dimostra che la strategia di contenimento sta raccogliendo i suoi frutti perché la malattia si diffonde in focolai già individuati consentendo di eliminare le infezioni già localizzate. Pentasuglia annuncia anche il via libera ai provvedimenti di abbattimento di oltre mille piante a Ustuni, area in cui sono stati individuati nei giorni scorsi altri 86 ulivi infetti che si sommano ad altri 13 tra Locorotondo, Fasano, Crispiano e Martina Franca. L'assessore evidenzia che la sorveglianza del batterio avviene in una zona più estesa rispetto a quella indicata dalle norme comunitarie proprio per arginare la diffusione della xylella ma serve uno sforzo comune da parte di imprenditori agricoli, organizzazioni professionali, sindaci, associazioni ambientaliste e regioni. Il batterio ha già colpito 21 milioni di piante e un territorio esteso per oltre 8 mila chilometri quadrati pari al 40 per cento del territorio regionale. Abbiamo tutti il dovere di sostenere anche con corpose iniezioni di liquidità e il sacrificio che chiediamo al mondo agricolo conclude a pentassuglia.